Chiedere di cambiare Dublino è come chiedere la pace nel mondo, perché nessuno vuole cambiare Dublino. Quindi io voglio cambiare Dublino, tu vuoi cambiare Dublino, tutti vogliamo cambiare Dublino e a tutti piace il presepe e la mamma. Ma non è un piano quello della Schleinz, i migranti. Riscrivere Dublino è uno slogan, perché siccome nessuno riscriverà Dublino, non è un piano. No, quando ci sono le crisi migratorie, come fu per la Libia, devi bloccare i flussi e lo devi fare lavorando con i paesi di origine di quei flussi e di transiti. Se non lo fai, quello che succede è che gli altri paesi europei ti chiudono le frontiere e ti trovi a dover gestire tutto di botto, 150.000 arrivi che non puoi gestire. Poi i migranti che sono in Italia, che trovano lavoro vanno regolarizzati, quelli che frequentano un ciclo di studio gli va data la cittadinanza e vanno integrati. Ma bisogna essere molto chiari, noi non possiamo dare il messaggio che chiunque voglia venire in Italia può venire in Italia, perché non li riusciamo a gestire e quindi non è possibile.